La Venezia Giulia è un territorio che si trova al centro di tanti di questi cambiamenti. Quando parliamo di cambiamento delle catene del valore e della logistica, questa è una piattaforma logistica importantissima. Quando parliamo di innovazione, questo territorio esprime eccellenze nell'innovazione. Quando parliamo di evoluzione dei modelli di vita e delle città, questo territorio ha moltissimo da dire. Quindi da qua l'idea di un laboratorio che possa essere di sperimentazione per l'Italia e per il beneficio della crescita di questo territorio nel futuro. Grazie a tutti.